Il 17 marzo si celebra la festa nazionale dell'Unità d'Italia e della Bandiera. L'Associazione Varese per l'Italia 26 maggio 1859, lunedì 18, coinvolge le scuole varesine e non soltanto, in una mattinata di festa nel Salone Estense del Comune. Saranno proprio gli studenti a presentare il lavoro svolto durante l'anno dedicato ai valori del rinascimento. Lunedì 18 festeggeremo l'Unità d'Italia e della Bandiera, festa nazionale per la verità poco celebrata, lo faremo a Salone Estense di Varese con 180 ragazzi delle scuole, con un taglio nuovo rispetto agli scorsi anni, con delle ricerche che hanno fatto i ragazzi, un coro e un'orchestra giovanile appositamente preparati per questo evento. E' il nostro inserimento nelle scuole che vuole portare alla ribalta i valori del risorgimento e i valori dell'Unità d'Italia. Una giornata dedicata alla storia dunque, con un sottofondo musicale speciale. Ci sarà poi il coro della scuola Anna Frank che suonerà oltre all'inno nazionale nella sua completezza, nelle tre parti, soprattutto la seconda e la terza che sono sconosciute, anche altre canzoni dedicate alla bandiera. Verrà distribuita, e questa ci sembra una cosa interessante, verrà distribuito il testo dell'inno di Mammeli completo di modo che anche i cittadini possano averne una copia.